La normativa antimafia e i lavori pubblici, la documentazione antimafia, l'autorizzazione del subappalto, i settori sensibili e il sistema della white list, i protocolli di legalità, il sistema del rating. Tutto questo è stato affrontato questa mattina nella sede dell'ACEN al centro del convegno legalità e lavori pubblici, nel corso del quale è stato anche inaugurato il progetto Saperi per l'edilizia. Alla giornata di lavori hanno preso parte tra gli altri l'assessore regionale alla formazione Chiara Marciani, Pio Crispino, presidente dell'Ordine degli Architetti, Armando Rossi, presidente dell'Ordine degli Avvocati, Angelo Lancellotti, presidente Area Opere Pubbliche dell'ACEN. Con questo convegno l'ACEN ha voluto porre l'accento sul tema della legalità. Ai nostri microfoni Francesco Tuccillo, il presidente dell'ACEN di Napoli, ha spiegato. Bisogna fare in modo che le imprese siano formate, che ci siano sempre di più corsi di approfondimento sulle procedure e sulle regole vigenti nel settore delle opere pubbliche in particolare. Il coacervo di norme e di regolamenti che sono stati recentemente emanati sono un iter da seguire. Bisogna fare in modo che le imprese recepiscano quanto più è possibile lo spirito e la razza della legislazione vigente. Da questo punto di vista noi siamo sul tema, tanto che abbiamo organizzato una serie di seminari di approfondimento e di conoscenza di tutte le questioni che vanno dal fiscale al tributario al civile al penale e oggi cominciamo proprio con la legalità.